Il 15 luglio è trapassato di notte a 93 anni Marcello Bacci, conosciuto internazionalmente tra gli sperimentatori di metafonia. Nel suo studio di Grosseto centinaia di persone in decine di anni hanno avuto la certezza che i loro cari trapassati vivono ancora. Su Evolvenza Youtube sono pubblicati video, alcuni dei quali appartengono alla serie che abbiamo chiamato Il caso Mirella, in cui Franco Grigiotti e la moglie trapassata Mirella Brunori hanno intrattenuto per anni chiarissimi colloqui metafonici. Grazie Marcello. Grazie. 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 Grazie.